E' da tantissimo tempo che non faccio esplodere qualcosa su Minecraft E come ben sapete fare esplodere le cose su Minecraft è uno dei miei hobby preferiti Ed è proprio per questo che quest'oggi faremo esplodere il pianeta Terra O almeno ci proveremo Con queste fantastiche nuove TNT da provare e da testare Come ben sapete sono un professionista di TNT Le ho praticamente testate tutte quante E devo dire che alcune sono fin troppo potenti E dovrebbero essere cancellate da Minecraft Ma queste non le conosco ancora Quindi proviamo la TNT compatta Allora devo dire intanto che la grafica mi piace tantissimo Quindi prendiamo subito un flitten steel per accenderla E adesso si salve chi può E aspetta ma sbaglio o ho visto Oh mio dio Ha fatto una bellissima esplosione Però ragazzi avete visto che ha avuto tipo una piccola animazione Se non sbaglio la TNT è tipo saltata Vediamo Oh sì Ha una piccola animazione Questa cos'è? La bomba della fisica Oh mio dio Cosa? Non è vero Non ho mai visto niente del genere su Minecraft Java Edition È impossibile Riproviamola La mettiamo qua questa volta Vediamo che cosa combina Non è vero Non è vero Non è vero Boom Wow Ok Mi è venuta un'idea Mi stai forse dicendo Che se un nabbo qualsiasi Dovesse provare a costruire una casetta Fatta interamente di terra Come questa qui Allora la sua esplosione Avrà questo effetto Vediamo 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 Siete pronti? Oh Penso che questa sia la cosa più assurda e bella di Minecraft Che io abbia mai visto Ok Dobbiamo assolutamente provare le altre TNT A quanto pare questa mod non delude Mi raccomando Non deludetemi neanche voi E lasciate un super mi piace a questo video Adesso proviamo la TNT di Bone Meal Oh Penso di aver capito Dovrebbe far crescere tantissimi fiorellini Giusto? TNT di Bone Meal È questo che mi aspetto Un campo rigoglioso E infatti Oddio L'incubo di bella faccia ragazzi L'erba alta Lui odia l'erba alta Come questa qua Cluster Bomb Questa era la più pallida idea Proviamola perché sembra interessante Credo Cos'è ferro quello? Tipo delle catene di ferro Ah mamma mia Wow 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 Ah sono tipo tante TNT messe insieme Riproviamola Per la scienza Vediamo che cosa fa Credo siano tipo tante TNT compresse in un'unica Sì Oh mio dio E ogni singola TNT che esce fuori Poi esplode Fire Blast TNT Ok Questa dovrebbe semplicemente Sprigionare una potenza di fuoco incredibile Mi aspettavo un po' di meglio sinceramente Fire Blast TNT Sei inutile Non ti voglio Però adesso abbiamo la TNT incendiaria Quindi dovrebbe essere simile a quell'altra Ma mi aspetto Una vera e propria potenza Quindi esplodi Distruggi tutto Oh mamma mia Cosa Cosa No come ha fatto Come ha fatto il creatore di questa mod A creare il fuoco 3D Come se fosse un blocco Cioè guardate L'esplosione Di questa bomba Non ho mai visto niente Del genere E poi Il fuoco effettivamente Si piazza sul blocco in cui atterra Wow Bomba dei fulmini Ah Mi stai perché sto dicendo che ora Arriverà Torri in persona Sparare Sì ok Sì Funziona esattamente in quel modo Beh bomba delle palle di neve Abbiamo già capito tutto Renderà tutto il mondo Di neve Giusto? No Rilascia proprio delle palle di neve Bellissimo Ma non posso crederci Che questa faccia effettivamente del male Io mi tolgo dalla creativa Voglio vedere quanto danno fa Infatti non toglie niente È impossibile che ti uccidano le palle di neve E allora che senso ha? Cioè anche la sua esplosione non fa nulla? Se io sto qua Ok Un po' di danno lo fa effettivamente Chissà le altre TNT che danno fanno TNT Anzi Bomba Di frecce Beh questa dovrebbe essere pericolosa Per esempio Mi metto in creativa Oh mamma mia Piava la frecce Piava la polpette Le ho schifate tutte Tranne l'ultima Bene Ma non sono finite Abbiamo la T-Ped Abbiamo l'idrogeno Oh mio dio La bomba idrogeno Meglio conservarla per ultimo Perché è una delle più potenti Sicuramente La gunpowder La mini TNT E anche i detonatori E Anche un fucile Lancia granate Lancia bombe Quindi Se io metto la TNT qua a sinistra E carico Questo fucile Sparo le vere e proprie TNT Wow Mio dio È bellissima Cos'è una TNT arcobaleno? Guardate che bellezza Wow No Ok Non ci credo che anche questa fa male Secondo me non fa nulla Beh No Infatti non fa niente TNT di torce Quindi se c'è tipo buio Ecco Adesso è tutto illuminato Vogliamo illuminare anche la sotto Anche la sotto E anche la sotto Sapete cosa sembra Questa cosa che sto utilizzando? Sembra una di quelle cose Che hanno in America Per sparare le magliette ai concerti Quando così Pum E hanno quei cannoni Sparamagliette Ok Bene Tutto il mondo adesso è ben illuminato E se non vi dovessero piacere queste torce Allora utilizziamo le torce delle anime Per avere il fuoco blu Meraviglioso Quest'altra TNT invece che ho in mano Dovrebbe essere della Della polvere da sparo Rimettiamo giorno E Sbom Vediamo Oh Ok Mi è sembrata sinceramente un'esplosione piuttosto Normale Certo se ne spammi 100.000 Forse effettivamente Fa un bel danno Proviamo 3 2 1 Oh mio dio ragazzi Toglietemi quest'arma di mano È veramente un pericolo Eh sì dai Niente di che Cos'è invece la mini TNT? Ma Cosa? È una TNT che si può raggruppare in altre TNT? Mi stai dicendo che posso creare una torre di mini TNT? Ok Allora io credo che ogni piccolo mini TNT Abbia la stessa potenza di una TNT normale di Minecraft È vero? Oh mamma mia Sì che è vero E poi abbiamo il detonatore che Sinceramente non so come funziona Quindi lo buttiamo Allora la bomba idrogeno dovrebbe essere una tra le più potenti in assoluto È per questo che l'ho tenuta per ultimo Siamo pronti? Io sono pronto E adesso Scappiamo Pecora Mettiti in salvo Ora ci sarà una mega Oh mamma mia Ok non me l'aspettavo così grande Bellissimo Sciocchi E voi pensate veramente che queste siano le TNT più potenti in assoluto? Nah Abbiamo qua delle TNT ancora Più potenti Sono talmente potenti che non le puoi neanche accendere con un fiammifero Avrai bisogno assolutamente della redstone Proviamo la TNT gialla Questa sarà uno scherzetto confronto alle altre tre Ok ci metto un po' a esplodere Ecco Ecco TNT verde Ci vorrà un po' per caricarsi Perché ovviamente c'ha tutta la miccia Detonazione Insomma dai Le sapete queste cose Eee Vai esplodi Ho detto Esplodi Ecco Ma adesso ragazzi Arriviamo alle vere chicche Delle TNT così potenti Da distruggere il mondo di Minecraft Sto parlando della TNT 500x500 La 1000x1000 E la TNT nucleare Proviamo La 500x500 Via Ok dobbiamo allontanarci per bene Perché Per questa ci vorrà un bel po' prima Che esplode E soprattutto farà un'esplosione gigante Quindi stiamo alla larga Anche se sono in creativa È sempre meglio essere distanti Questa funziona con i comandi della voce Esplodi Eh Non male eh Ora proviamo la 1000x1000 Dobbiamo fare molta attenzione con questa ragazzi Io direi di allontanarmi Il più possibile Credo si stia attivando Sì sì A giudicare dai segnali che stanno emettendo le redstone Sta per partire Ti sta mettendo un po' più del dovuto Forse dovrei avvicinarmi E dare una controllatina Oh mio dio Cosa sta succedendo Wow Che lag Ragazzi guardate La potenza Di questa esplosione Guardate i segni sono fino là sotto Non ci Sta ancora esplodendo Guardate che impatto E che shock Incredibile Ha avuto Sul pianeta di Minecraft E adesso ragazzi Non ci resta che provare La più potente Di tutte quante le dinamiti La TNT Nucleare Come vedete C'è un bel segno rosso e gigante Che ti fa capire Di non usare questa TNT Ma noi ovviamente ragazzi Dobbiamo farlo Per il video Creiamo una miccia E adesso Scappiamo Prima che si distrugga tutto il pianeta Terra Ragazzi mi raccomando Superiamo i 20.000 mi piace se volete vedere la distruzione Di questa TNT nucleare E controllate i vostri mondi Perché potrebbero disintegrarsi Ciao